Io avevo una mamma anziana che è mancata a giugno, fosse stata ancora viva, sarebbe schiattata direttamente la gru. Vedete. Avvisata una mia amica che abita lì sulla farmacia, mi ha detto corri a casa che, dovevo fare delle commissioni anche per lei, corri a casa che è caduta la gru, mi ha detto. Per il balcone c'è, si può riparare, una vita purtroppo no, anzi tre vite. In un attimo è caduto giù tutto. Che cosa ha visto da sotto? Da sotto ho scappato via io, scappato via perché cadeva la roba. Senta, è stato dalla signora al piano di sopra? Sì, c'è il pezzo sotto, l'aliena adesso non c'è, tutto il pezzo è saltato via proprio. Ci sono due gru, c'è quella gru fissa che dovevano fare e poi l'altra che c'è il veicolo lì, è quella lì che ha ceduto. Grazie. 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 Grazie.